Questa mattina il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo con gli agronomi ha fatto un sopralluogo qui nella pineta di Siano per fare la conta dei danni. Ci sono tantissimi danni ma una gran parte della pineta di Siano è salva, verranno investiti diversi fondi per poter ripopolare la pineta ma per riavere la nostra pineta di Siano soprattutto nella prima parte, nella zona dell'entrata della pineta, per riaverla come prima ci verranno circa 20 anni. Perché venerdì ho fatto un giro, mi sono accorto che i danni ci sono stati però il polmone principale della pineta di Siano non è stato intaccato dagli incendi e quindi ho voluto che con le telecamere voi riprendeste per tranquillizzare in parte i nostri concittadini. Si dicevano 10 ettari di pineta però all'interno della pineta di Siano perché poi all'esterno comunque c'è anche un altro ampio spazio. Diciamo che stiamo sparando un numero così, tanto giusto per dire più o meno ad occhio con quelli di Calabria Verde hanno detto 10 ettari all'interno del parco e poi c'è tutta la parte invece esterna che bisognerà quantificare. Quindi non diciamo cifre così giusto per dire però diciamo che ci metteremo subito a lavorare per fare in modo che vengano piantumate nuovamente gli alberi. Quindi questa è una cosa che faremo subito, faremo la progettazione con Calabria Verde, ci aiuteranno anche l'ordine degli agronomi e faremo in modo che a novembre che è il periodo in cui si fa la piantumazione si possa essere già pronti. Poi abbiamo anche avuto oggi Lab32, un'associazione di imprenditori che hanno detto di voler realizzare il parco giochi non appena sarà un po' ripulito e quindi anche questa è una bella notizia per la nostra città. Un incendio, avete già indicato la natura degli incendi, quello che può essere stata la causa? Noi abbiamo sentito quello che hanno detto i vigili del fuoco, sono stati tre i punti in cui sono stati colpiti dagli incendi e quindi ci basiamo sulle notizie che ci hanno dato loro, sicuramente saranno dolorsi. Ieri è stata chiusa anche la pineta di Giovino, nessuno si è avvicinato, c'è comunque adesso una forte attenzione in merito alla possibilità di incendi. La paura è tanta? Normalmente la pineta di Giovino durante la giornata di ferragosto viene invasa da gente che vuole fare picnic, accendono anche dei fuochi per cucinare e con questo caldo sarebbe stato molto ma molto pericoloso. Quindi ho chiesto una riunione in prefettura, le forze dell'ordine per dire la verità, carabinieri, polizia, guardie di finanza ma anche i vigili urbani hanno fatto un lavoro egregio perché si sono piazzate lì da ieri mattina alle 6 in gran numero e non hanno fatto entrare nessuno. Con i cittadini che hanno avuto i danni qui nel quartiere Siano avete parlato, sono previsti degli aiuti? Io ho fatto subito venerdì una comunicazione di mandare immediatamente l'elenco dei danni subiti con servizio fotografico a tutte le famiglie, a tutti gli operatori che hanno subito danni, in maniera tale da poter immediatamente aprire un tavolo con la regione perché se ci saranno i ristorati da parte del governo li dobbiamo attivare immediatamente, non possiamo farli aspettare perché sono quelle cose che se parti subito riesci a chiudere nel più breve tempo possibile. Se li tralasci poi vengono a morire come tante altre cose sono successe anche nel passato e quindi ci siamo già attivati, aspettiamo sulla mia email da gabinetto del sindaco queste richieste, dopo di che le valuteremo, le quantificheremo e faremo richiesta alla regione. Questa mattina qui un sopralluogo nella pineta di Siano, la situazione all'inizio sembra veramente tragica ma poi insomma percorrendo come abbiamo fatto tutta la strava della pineta alla fine si è salvato quasi tutto. Beh insomma quasi tutto penso sia esagerato, si è salvato gran parte della pineta almeno all'interno però il danno c'è e si vede, soprattutto chi percorre la strada ha questo impatto negativo. Ma al di là di questo bisogna fare qualcosa per restituire alla città questo polmone verde così com'era nelle sue molteplici funzioni. Quanto ci vorrà di tempo e di investimento? Abbiamo un pochino scambiato qualche idea già con il sindaco, si presume di iniziare i lavori subito, nell'immediatezza, chiaramente nel prossimo autunno-inverno perché sarebbe assurdo iniziare adesso. E poi i tempi necessari perché questo nuovo impianto si sviluppi con i tempi che ha in relazione anche alle specie che verranno scelte e piantumate. Qui adesso si metterà al lavoro in inverno per ripopolare gli alberi la pineta. Che tipi di alberi verranno piantati e appunto se avete un'idea della spesa? Abbiamo un'idea sia delle specie, delle specie no, ma delle specie sì. Possiamo ipotizzare e fare una stima anche delle specie perché poi dipenderà dal fatto se Calabria Verde potrà contribuire a fornire il materiale vegetale per la messa a dimora. Relativamente alle specie, noi ci siamo già pronunciati, secondo noi la pineta non sarà più una pineta, secondo noi, almeno questa parte che è stata totalmente devastata, quindi non tenderei a minimizzare perché il danno, basta guardarsi intorno, stiamo parlando di decine di ettari che sono andate in fumo. Noi parliamo di associazioni di specie quercine che sono quelle più adatte a questo territorio. Abbiamo già visto all'interno della pineta diverse piante di sughere che hanno subito qualche danno, ma quelle si riprenderanno. Viceversa i pini, come potete vedere, ormai sono andati veramente in fumo. Bisognerà procedere, come ha promesso il sindaco, nella immediata rimozione delle piante morte, per poi procedere, quando i tempi tarda autunno, inizio inverno, procedere alla messa a dimora delle nuove piantine. Per quanto riguarda i tempi, come diceva il collega, se vogliamo azzardare proprio per vedere una forma di bosco, ci vorranno almeno una ventina d'anni, prima di vedere un bosco di neoformazione. Grazie.